Se questa parola però è ascoltata ma non adempiuta, non vissuta, non messa in pratica, siamo un po' come l'uomo stolto. Su che cosa costruiamo? Sulla sabbia. Non ha consistenza. Una parola che colpisce l'orecchio ma si ferma lì. Non entra, non rinnova, non mette in crisi tanti nostri atteggiamenti. È una parola che non lascia segno, non ci pone in un dialogo, in una intimità, in una forza con il Signore che è la garanzia e l'autenticità della nostra vita. Chiediamo al Signore allora che questa parola anche oggi segni un solco nella nostra vita e trovi un posto in cui radicarsi perché non possa essere strappata da nessuna pioggia, da nessuna tempesta. È ben più forte il legame con Lui, non c'è nessuno, nessuna tempesta che potrà scioglierlo o annullarlo.